Siamo dall'Italia, sono un grande supporto Juventus Io vivo in Berlino, lavoro in un hotel E sono molto felice che la Juventus giochere la finale E spero che vengeremo Sono pronti per la atmosfera di molti italiani e spagnoli Siamo da Hungria, ma vivo in Barcellona per 4 anni Io vengo direttamente per la finale Ho fortunato di ottenere un ticket Io vengo con Barcellona 3-1 Il nostro canale con orientale Il nostro canale ha fatto il suo ragazzo Alla prossima Grazie.